Letto Manoppello, da secoli considerata la capitale degli scalpellini dove ancora vivono le botteghe tradizionali in cui vengono creati complementi d'arredo lavorando la tenera pietra della Maiella e lo scenario del Simposio Internazionale di Scultura che prende il nome di Dieci Giornate in Pietra, curato da Giacinto di Petrantonio con la direzione artistica di Stefano Faccini. Quest'anno abbiamo 13 postazioni con 15 scultori che lavoreranno, qualcuno in coppia, abbiamo 6 scultori internazionali, un nome di rilievo Vito Maiullari e poi avremo diverse accademie che parteciperanno alla manifestazione più gli scalpellini e gli artisti locali. L'incontro tra scalpellini locali e artisti internazionali è fondamentale perché crea quella sinergia, quell'incontro tra chi opera manualmente da tempo sul piano decorativo e chi porta invece l'innovazione e la contemporaneità. La manifestazione, che animerà come di consueto le vede il Centro Storico dal 28 luglio al 6 agosto, vedrà artisti, studenti delle Accademie di Belle Arti e scalpellini attivi nel realizzare i nuovi Petrales, ovvero grandi bassorilievi che saranno poi applicati in modo permanente sulle pareti delle case dei cittadini di Letto Manopel. Giunta la terza edizione, le 15 opere di quest'anno andranno ad aggiungersi alle altre 30 già installate negli anni precedenti. Le 10 giornate in pietra vanno a chiudere un'attività annuale che si sviluppa sul nostro territorio. Stiamo cercando di chiudere e concludere questo percorso importante che sono i Petrales del Centro Storico che verranno poi inseriti all'interno di un circuito turistico. Una cosa importantissima come progetto, speriamo che questo progetto sia utile per poter far poi conoscere a tutti quelli che lo vorranno, naturalmente la lavorazione della pietra bianca e nera della Maiella stessa. L'evento è finanziato dalla Regione Abruzzo ed è patrocinato da ACASPA e dal Parco Nazionale della Maiella. Grazie. Grazie.